Valli, automobili americane da sogno dal 1991 Mauro che bel regalo ci sei fatto oggi a Castelletto di Branduzio, infrasettimanale non ci immaginavamo di trovare qui una cornice così bella il gruppo è un gruppo di amici, Italia Hammer Club Italia Hammer Club è un gruppo di amici, ciao ragazzi, ciao Bob Gear siamo qui con i pazzi dell'Hummer Club che hanno preso mezza giornata di vacanza per far capire che da Valli ci sono le Hammer, che da Valli c'è tutto e ci sono anche loro, ci sono anche loro che sorreggono una passione una macchina amata, una macchina ambita da tanti che diverte, che però è oggetto di abusi, di dicerie, di maldicenze di cose che rendono a talvolta difficile l'utilizzo di questa macchina loro in prima persona parleranno di questi problemi quindi non siamo qua solo a dire che Valli alle Hammer che le vende, che le ripara e che ci telefona e vuole diventare nostro cliente è il benvenuto però proprio per dire a te Franco e agli amici a casa che bisogna smetterlo di fermare le Hammer come se fosse solo di rapinatori che succede questo? Spieghiamo bene innanzitutto l'Hummer nasce come un veicolo da guerra, diciamo l'esercito americano lo utilizza sì, sì, assolutamente sì l'Hummer H1, il vecchio Envi ne abbiamo uno, dopo andiamo a conoscerlo ne abbiamo uno in versione civile comunque il vecchio Envi ha equipaggiato dopo i vecchi H5 l'esercito americano da lì è nata l'idea di renderla civile da lì è nata l'H2 l'H2 ha fatto impazzire il mondo un po' per mole, un po' per questa faccia nuova un po' questa alternativa al SUV che non si era mai vista prima e da lì è partita la passione è partita la passione in America vendendone ai milioni di esemplari ma insieme alla passione e all'amore è nato anche l'odio per questa macchina è immediato dove? in America o in Europa? ci sono siti contro l'Hummer ci sono siti pro-Hummer che mettono insieme, aggregano centinaia di persone e ci sono siti contro l'H2 io insieme a loro voglio capire perché la gente ce l'ha con l'H2 ma cosa si contesta all'H2? intanto cominciamo a vederli che almeno ma cos'è che contestano all'H2? intanto il nostro sistema burocratico vede sempre difficoltà nelle targature delle macchine americane e alla fine è stato ottenuto un certificato di conformità europeo il primo punto che la polizia stradale contesta sono i pesi e qui vorrei dire se Pasquale ci segue che questa macchina pesa 27 quintali e 80 vuoto rientra largamente in patente B quindi inviterei se qualcuno della stradale ha qualcosa in contrario e ha da dimostrare qualcosa in contrario a quello che sto dicendo di intervenire e di venire da noi se Franco lo inviterà certo ma perché tu dici che la polizia ferma quando vede un H2 lo ferma a prescindere e dice è fuori norma non è con patente B ma ci vuole la C esatto viene fermato a prescindere invece non è vero viene fermato a prescindere poi scatta questa maldicenza come dicevo prima in quanto c'è una targhetta sulla porta io ho un documento di situazione intanto adesso facciamo vedere che riporta un 3900 kg sulla porta bene signori quello non è il peso dell'automobile la macchina pesa 27 quintali e 80 i 39 quintali sono il massimo consentito con la patente B americana quindi noi guidiamo fino a 35 loro guidano fino a 39 non è un dato tecnico da trascrivere sulla carta di circolazione capisci tanto? per cui sul libretto non c'è scritto 39 assolutamente la macchina a 7 posti rientra in 35 quintali 3500 kg ok perfetto ok se vogliamo far vedere la targhetta perché prima stavamo inquadrando quella che invece è l'ultima declinazione H3 H3 sì se finiamo la serie diciamo che c'è H1 un V militare H1 in versione civile che è quella gialla meravigliosa che abbiamo visto prima che abbiamo visto prima magari dopo andiamo a descrivere H2 in due o tre versioni prodotta fino al 2008 e H3 che è io vado dall'amico che è tu il proletario dell'H3 perché hai scelto Hammer? perché è una passione è una macchina che è un po' particolare e mi piace così com'è ti faccio una domanda brutta ma nel senso che voglio capire questo mondo quando tu ti trovi di fianco agli H2 all'H1 non ti senti un pochino piccolo piccolo sì in effetti sì quando giro da solo sembra grande poi quando ti affianchi a un H2 ti riduci un po' le dimensioni e ti dici sì in effetti è il cucciolo del casa Hammer questo e quindi l'idea è di passare a quello lì? no perché a me piace l'H2 solo che per problemi di spazio purtroppo nei box tradizionali che abbiamo non entra e quindi a causa di forza maggiore bisogna prendere un H3 ok allora mi sposto grazie per essere stato qui con noi in questo H2 invece è particolare mi dicevi? questo è un allestimento particolare come ti dicevo oltre a venderle a tenere l'assistenza di tutte le nostre macchine quindi anche l'Hammer le prepariamo con allestimenti speciali ognuno di voi può chiedere come la vuole questo signore l'ha voluta nera opaca è questo signore lì che l'ha voluta nera opaca? è quello lì dietro di te? non abbiamo quali proprietario non c'è la portata qua è uno che si diverte a venire con noi ruba le macchine degli altri e porta qui va bene io continuo e vado avanti questa è un H2 del 6002 lui è il proprietario questa è una nuova generazione nuova generazione cosa vuol dire? ultima generazione Hammer H2 fai parlare solo lui sembra che sia suo lui sa e cosa ti piace di Hammer? tutto era un sogno che è diventato una realtà ti senti vessato quando vai in giro per strada ti guardano ma qualcuno l'ammira perché è talmente bella piace o non piace quindi in una maniera o in un'altra puoi essere ammirato come puoi essere detestato senti consumi? discreti pensavo peggio diciamo noi giriamo GPL quindi siamo puliti e consumi nella norma quindi non esattamente quanto fai con un pieno di GPL? con un pieno arrivi a 400 450 km ma quanti litri hai di servo? massimo puoi caricare 72-73 litri complimenti molto veramente molto bella io seguo te voglio capire segui vieni vieni continuiamo con la collezione H2 un'altra cosa che voglio dire franco e ragazzi la fabbrica non è dismessa non è stata venduta ai filetti ecco questa è un'altra cosa questa è una maldicenza non è vero? l'impianto è fermo sono calate le vendite quando il numero non motiva la produzione fermano l'impianto l'impianto è lì non l'hanno spostato come non l'hanno spostato quello della Buell altre dicerie le vendite cattive legate all'H2 stancate in quina e questa è la temporale che diceva è temporale che è qui in giro questa è un'altra notizia da smentire assolutamente l'H2 ritornerà in produzione a breve non si sa se è 2013-2014 però l'impianto è lì che aspetta la nuova produzione lo sai che la tua H2 è cinese? no direi proprio di no novità se li ho chiamandola infatti cosa ti piace di Andre? ma come ha già detto il mio collega di passione è tutto ma soprattutto il fenomeno che ha suscitato in me all'inizio curiosità credo che nessun marchio in 7 anni di produzione abbia fatto parlare di sé così tanto al mondo perché non dimentichiamoci che rimaste in produzione solo 7 anni io quando giro per strada vedo i ragazzini che hanno 8 anni e quindi non hanno vissuto esattamente la nascita di questo che si stupiscono e gridano amme 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 è sicuramente qualcosa che ti fa pensare direi che tutto nasce da questa curiosità e poi si rivela in realtà reale appunto guidandola bene ma com'è guidare a me? il tuo è l'H1? l'H1 sì come mai hai scelto queste vie? è veramente una roba? è la mia passione ho anche l'H2 ma in garage ma com'è guidare questa avventura su strada? preferisco a una Smart la preferisco a una Smart la verità il centro di Torino lo preferisco a una Smart Mauro questo è un ordigno bellico è una macchina pesantissima ovviamente sono 33 quintali d'acciaio su questa piattaforma montano armi montano di tutto però ritorno a dire che è nata come progetto bellico in versione civile l'hanno abbellita tanto vado a farla vedere dentro ci sono qualità tecniche incredibili come gli ingranaggi a cascata gli ingranaggi a cascata alzano il baricentro se Pasquale ha voglia di abbassarsi ma lui sai che dall'alto dei suoi 184 kg per 1,20 m guarda anche tu non vedi il differenziale non c'è il ponte è completamente piatta e con la soluzione degli ingranaggi a cascata che sollevano il mosso di 20 cm la meccanica sotto la vettura scompare incredibile senti tra l'altro questa qui è quel sistema del gonfiaggio dei pneumatici automatico assolutamente sì 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 ha il gonfiaggio e il sgonfiaggio automatico in base alla strada che percorro lo gonfio e lo sgonfio poi dopo 8 ore di fermo va in sicurezza in più ha l'interno e l'anteproiettile quindi se si buca continua ad andare lo stesso bella comodità vero che magari qua da noi sparano poco delle volte anche faccio il deserto quindi con questa macchina faccio il deserto e preferisco averla così sinceramente complimenti è veramente stupenda andiamo oltre Mauro ti seguo andiamo a conoscere altri amici con gli H2 che non abbiamo visto dentro l'H2 quella targhetta poi ce l'abbiamo da vedere quella targhetta che dicevi sì assolutamente adesso tiriamo avanti quella di Carlo questa è un H2 in vendita giusto perché l'anima del commercio non mi si spegne mai giusto vediamo chi vuole divertirsi con 25 mila euro può comprare questa bellissima vieni Pascal vieni vieni faccia vedere tanto qua al motodomo stanno facendo i lavori stanno rimodernando tutta la zona spogliatoi no stai scherzando 25 mila euro 25 mila euro compri questo gioiello un 2003 completamente ricondizionata come vuole la filosofia valli interne in pelle nuove rifatti da noi cerchi da 20 polli andate a trovarli perché solo toccandoli vi rendete conto di che qualità le vetture vengono completamente ricondizionate vengono messe ruote speciali questi sono cerchi da 20 con le gomme da 3 25 perfettamente omologata nessuno potrà mai dire che una macchina delle nostre non è in regola con la circolazione smettetela 25 che motore hai detto scusami 6.000 V8 fino all'ultima produzione che è diventato 6.200 da 400 cavalli ok GPL montabile o ce l'ha già questo? chi la usa poco chi la usa come gioco nel festivo non lo mette ma proprio perché c'è la filosofia del gettone 100 euro faccio un giro e la spengo altrimenti chi la utilizza mette il GPL non inquina e va spasso senza consumare questa? questa è una macchina nera di non c'è è sparito è scappato il proprietario è fuggito e la contemporanea gli è stata attaccata una pezza della miseria io rossa non l'avevo mai vista è bellissima complimenti l'hai voluta così o? si si no scelta insomma non è solo Ferrari rosso giusto è anche Amer un giocattolo per adulti cosa ti piace di questa macchina? l'imponenza è grossa è comunque bella nelle sue forme ecco ogni tanto vai anche in garage te la guardi anche se non la usi perché ma che uso ne fai tu? la usi solo per dire salvatore o la usi anche continuamente? per la montagna è un po' pesante però sulla neve si comporta abbastanza bene hai figli? si 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 divertono in mani il mio junior si è qua anche lui che è un pilota di moto ma le due generazioni hanno questa questa passione bene 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 complimenti è veramente bellissima lui no lui è troppo grosso non gli vado a chiedere niente lui invece la portiamo avanti che è qua comodo la portiamo avanti la spostiamo avanti la portiamo avanti poi lo facciamo parlare è una delle Amer più accessoriate del gruppo ogni cosa che c'è su un catalogo la ordina ho visto ho visto che l'ha dato una botta sulla vernice di fianco e non volevo mettere del casino tra di voi però ha fatto un segno spaventoso Carlo oltre ad avere un po' di serie di treni di cerchi ha scaricato tutto il catalogo accessorio da comprare per l'H2 l'ha comprato 600 mila euro comprese le pedane elettriche a scomparsa le pedane sono uscite quando ha aperto la porta guarda Pascal guarda quando apre la porta qua guarda le piace la comodità questo qui è un accessorio da quanto? è da 1200 dollari va bene va bene allora perché hai scelto Amer? mi è sempre piaciuta ce l'ho dal 2004 questo qua è nel 2003 e niente a me piace perché da quando l'ho iniziato a produrre fino a quando l'ho smesso non è mai cambiata assolutamente esteticamente e da allora adesso fa girare tutti dal bambino alla vecchietta vieni in giù perché devo far vedere quella pedaliera lì dove l'hai trovata quella pedaliera? sempre su internet vieni qua sempre su internet io mi compro tutto per conto mio tutti gli accessori prima era completamente diverso la macchina nel 2004 e piano piano non di certo tutto in una volta piano piano ogni tanto mi compro qualcosina e me la monto da solo al di là dell'estetica abbiamo capito che sei innamorato e giustamente questo è bello che c'è ancora gente che si innamora del mezzo con cui lavora o vive o va in giro per divertimento perché Amer e non un'altra macchina? mi ha colpito da subito cioè nel 2003 la forma completamente diversa da qualunque altro mezzo e poi io sono appassionato di macchine americane in generale e non poteva cadere su questa scelta devo presentarti i valli Mauro Valli lo conosci? non lo so forse ho sentito nominare è un mio grandissimo sospetto lo so senza di lui andiamo oltre vieni non si pare andavo a trovare l'ultimo poverino voglio provvedere a Pasquale la targhetta vieni Pasquale allora ragazzi faccio inquadrare a Pasquale questo bel numero 3901 kg tra parentesi 8600 libre quello è il dato che manda in confusione la metà delle forze dell'ordine ma sulla forza dell'ordine guarda la targhetta sulla porta guarda il libretto ma è quello che bisogna far capire il privato che compra compra una macchina regolarmente targata me la paga e va a spasso non potete contestare e fermare Carlo Quaglia o qualunque proprietario di H2 e digli tu la devi fermare tu hai la macchina sotto sequestro per un dato assolutamente dubbio assurdo in quanto non documentato e certificato sulla carta di circolazione cioè la carta di circolazione la fa la motorizzazione non la fa il colorificio certo capisci Franco per cui questo dato ribadisco è il dato per la patente B americana la macchina pesa 2780 kg rientra largamente in guida patente B perfetto non abbiamo ancora fatto vedere un motore il quale guardiamo ci fate vedere questo beh ah praticamente ha zerato un H3 che è di libero sì adesso dopo andiamo a salutarlo con il cagnolino adesso tiriamo indietro questa e facciamo vedere anche il cagnolino si apre così perfetto e qua è il cuore di guarda guarda quante scritte like nothing else come nient'altro motore che dà soddisfazione o no sì sì caro vecchio 6.000 benzina molto a me soddisfa molto benissimo grazie mille vediamo l'H3 dell'amico qui dietro questo lo lasciamo aperto ma si è bello eccoci qua è la tua compagna è la mia compagna la mia compagna di viaggio senza la quale non vado da nessuna parte complimenti senti H3 perché hai scelto questa misura e non l'H2 te lo faccio allora l'H3 l'ho scelta perché in il garage l'H2 non ci sta e poi perché io abito in una città di diciamo montagna io abito ovada e su un monte che si chiama siamo quasi in Paesani io sono a Novi fantastico allora Cremolino bene senza una macchina che andasse su non arrivavo a casa e ho dovevo scegliere fra un altro fuoristrado ho scelto questo perché è un po' più caratteristico ma tu ti senti vessato un po' come dice Mauro o giri tranquillo anzi sei apprezzato con una macchina particolare la seconda la seconda perché da noi tieni conto che l'H3 è una misura decisamente più portabile e i ragazzini quando io passo stanno tutti a guardare perché è una macchina che non passa naturalmente inosservata mi fai dire due parole con lei come si chiama vieni cosa ti piace dell'Ambra dimmi cos'è che ti piace ti piace tanto perché è comoda giusto ma le cinture le metti tu eh ma che bello perfetto grazie grazie ragazzi grazie